Per una giovane ventenne pesarese, l'11 giugno 2022 sarà una data difficile da dimenticare. L'ennesimo caso di stupro nazionale si è consumato a Cattolica, al di fuori del locale Malindi, che ha portato all'arresto di Bukhar Metusci, 22enne albanese, residente a Vallefoglia. Sembrava un sabato sera come gli altri per la ragazza, che con due amiche decide di trascorrere l'Olma Malindi, un locale sulla spiaggia romagnola, frequentatissimo dai giovani. A serata inoltrata, le tre ventenni vengono avvicinate da un gruppetto di giovani albanesi, uno dei quali era un conoscente di un'amica della ragazza. Dopo aver passato un po' di tempo assieme, Metusci addocchia la giovane, invitandola ad uscire, e lei, non immaginando cosa sarebbe potuta accadere, accetta. La porta in una stradina a fianco del parcheggio interno del locale, un posto poco illuminato, con alberi e cespugli, scelto da lui per portare a termine quello che macabramente aveva pensato di fare. A quel punto lui la prende con forza, tentando prima di baciarla e poi di avvicinarsi alle sue parti intime. Lei cerca di resistere e di divincolarsi, ma non riesce ad opporsi alla sua forza. Cale i pantaloni di lei, poi i suoi, e lì inizia a stuprarla. Un incubo per la giovane che dura circa mezz'ora, fino a quando lui, dopo aver terminato il suo sudicio rapporto, decide di lasciarla. A quel punto, tra lacrime e disperazione, scappa dalle amiche, alle quali racconta tutto. Scioccate da quanto appena ascoltato, inveiscono contro il gruppetto di ragazze albanesi, i quali, nel frattempo raggiunti da metusci, reagiscono con calci e pugni. Sul telefono delle tre giovani l'orario segna alle 3 e mezza, quando decidono di chiamare i carabinieri, che insieme all'ambulanza raggiungono tempestivamente l'esterno del Malindi. La giovane pesarese viene immediatamente portata al pronto soccorso di Rimini con codice rosa, dove i medici, visitandola, riscontrano alcune ferite alle parti intime, riconducibili ad un atto di violenza sessuale, per una prognosi di 15 giorni. Nel mentre, le forze dell'ordine di Cattolica vanno a casa del ragazzo, che nega tutto, sostenendo la consensualità della ragazza al rapporto. Tra pochi giorni, Metusci comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari.